2 a 0 il parziale in questo big match in serie D, si sfida la squadra della S Tronzi contro la compagine dei Galacticos, la prima contro la seconda attizione, una palla che balla in area di rigore, va a rilancio adesso Manuel Torre, sbuga dal nulla Santoro, Candice alla fine fa sul pallone, lo rimette in gioco per Gargiulo che sta giocando bassissimo, Chilemi è costretto a rilancio, Menna, si sfidano i due, Menna in qualche modo Rossi, ancora Rossi la mette dentro, David intercetta laterale che batte proprio Rossi, allarga il gioco per Soprano, sui prima per Covino, Covino pensa al destro, lo effetto è il sinistro, alto, allora Torre va a rilancio, cerca di accelerare l'azione, la squadra dei Galacticos sotto quindi 2 a 0, però Torre in questo caso commette un errore, quindi laterale ancora a favore della compagine in maglia blu, come al solito Carlo Rossi battere queste laterali, ma ancora Carlo, si muovono Soprano e Gargiulo, Casalini allontana, poi Sigona subito, Chilemi in qualche modo, e poi Chilemi sparacchia via senza tanti complimenti Azione adesso offensiva per Galacticos con Menna, la gittata lunga, cercare Sigona il movimento di Santoro, poi alla fine Soprano, Gargiulo allarga per Rossi, Rossi aspetta il movimento di Covino, Rossi si gira, David lo ferma, ancora Rossi per Covino, uno sguardo al centro, arriva il cross, Gargiulo, Gargiulo, 3 a 0, ci pensa Bomber, che fa? Ci ha abbracciato, la mia pancia, 3 a 0, Gargiulo, Galacticos, davvero un po' allo sbando, nonostante il loro buon gioco, bello il gioco di gambe, quindi... Di Caffasso Va, Comparini a battere la laterale Palla per Sigona, Sigona, buono il numero, palla allargata per Santoro, Santoro, aspetta l'arrivo di Casalini, palla dentro, intercettata, immanentata Mezzo metro, gioca Gargiulo, non viene servito da Rossi, Santoro, Santoro prova ad andare, dentro Sigona Si divora un gol fatto Ultima azione, Candice, lungo lancio, David all'indietro, blocca a Torre, con la palla dentro, Santoro, Santoro prova ad illuminare lui il gioco Allora, Santoro prova ad andare, in mezzo a due, viene fermato, poi Gilemi col tacco libera Rossi, tunnel a Casalini, poi recupera anche il pallone contro Menna, riesce a giocarlo, forza da terra, Gargiulo, se ne va in mezzo a due C'è il fallo Ultima occasione, calcio di punizione Vedremo Gilemi, così si crederà simpatico il ragazzo C'è tutto il palo scoperto qua Gargiulo Il mancino, il miracolo di Torre Chiudiamo qui il nostro collegamento Eccoci qui con Gargiulo Il milione in campo di questo big match Che vedete affrontarsi quest'oggi Pro.iasi tronzi con sui Galacticos Vertici del campionato Partita vintata a voi con un ampio margine Che ci puoi dire? E niente, è stata una partita sulla carta Ci pensavamo che era difficile in realtà Abbiamo dominato, tutti i fronti Niente di che comunque Ci aspettiamo avversari più forti Però comunque complimenti Se avete trattato in questo modo Una delle favorite Squadre che è abbastanza alta in classifica Adesso il vostro obiettivo in questa competizione Contando anche che i club loco Scalpitano Quale potrebbe essere? Io punto sempre a vincere Poi si vede le partite Sono imprevedibili Quindi si punta a partita o a partita Per prevedere i playoff E non scarpar! Carlo e tu quanti vuoi hai fatto oggi? Z Vabbè però fai girare la squadra Più quattro a partita Allora oggi Rimbocco l'uva gli stronzi Ciao ragazzi Grazie a tutti i nostri spettatori